ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube ora faccio voglio fare questo filone con queste farine farina di tipo 1 e un po di farina zero farò questo impasto a mano quindi un pane molto molto semplice da fare anche per chi non ha l'impastatrice allora ho miscelato le due farine trovate le descrizioni dei pesi all'inizio del video metto un po d'acqua adesso vado con la bilancia a mettere il licoli lo peso perché lo avevo rinfrescato e quindi non lo devo mettere tutto ecco qua ne metterò 80 grammi 80 85 non è cambi di molto ok tolta la bilancia continuo a mettere l'acqua la togliamo e giriamo così semplicemente con il cucchiaio allora metto ancora acqua io ho messo questa dose di acqua però naturalmente voi controllate non la mettete tutta insieme così magari se ne serve un pochino di più o addirittura un po meno di regolate vedete ne lascio solo un po io che la metterò dopo insieme al sale bene continuo così con il cucchiaio adesso ci butto il sale e ci metto l'acqua ancora acqua sopra vedete la metto non lasciato solo un goccino ma vediamo sicuramente ci vorrà tutta possiamo anche versarla tutta e lasciare solo un goccino per il sale allora adesso tolgo il cucchiaio e continuo così con il pugno ecco vedete c'è ancora farina quindi metto tutta l'acqua alla fine ho messo 410 grammi diciamo che al 70 per cento perché calcolando che il licoli è più idratato della pasta madre solida siamo intorno al 70 per cento di idratazione e continuo così io adesso qui ho fatto anche qualche taglio però continuate con la mano con il pugno così ecco qua e adesso anche se è rimasta un po' grezza come vedete la lasciamo la facciamo riposare una mezz'ora mezz'ora anche 40 minuti passato il tempo vedete l'impasto è già cambiato come potete vedere allora mi bagno la mano così non mi si attacca tanto l'impasto e procedo così in questo modo pulisco anche la ciotola volendo possiamo anche cambiare ciotola però io continuo su questa porto i lembi al centro in questo modo e piano piano vedete l'impasto sta diventando più elastico adesso ci metto un goccino d'olio se cambiate ciotola volete prima la ciotola e poi mettete l'impasto io faccio così perché non voglio lasciare l'impasto in questa ciotola ma giusto un goccino è in questo modo perché qui poi rimarrà a lievitare io sto facendo questo impasto di sera sono le 10 diciamo tra i passaggi tra un passaggio e l'altro arrivo alle 11 in modo che poi lo lascio tutta la notte a lievitare dopo questo passaggio copro ancora e poi ne farò ancora un altro finito i passaggi copro con la pellicola e lascio l'impasto tutta la notte fino al mattino quindi 6-7 ore eccoci qua mi sono svegliata presto per paura che l'impasto crescesse troppo ho una cosa stiamo a fine novembre fine novembre primo dicembre domani sarà primo dicembre ma fa molto freddo ecco perché ho potuto lasciare l'impasto a temperatura ambiente naturalmente sera estate non potevo farlo avrei dovuto metterlo in frigo siccome fa molto freddo l'ho tenuto qui nel soggiorno dove il riscaldamento di notte è spento e quindi si è mantenuto bene come vedete la lievitazione è al punto giusto metto un po' di farina sulle mani così perché è un pochino appiccicoso come vedete appena appena molto adesso lo riprendiamo con un paio di giri di pieghe allora volevo dirvi che io sto facendo questo passaggio l'impasto di sera e poi la cottura il giorno dopo perché avevo bisogno del pane appena sfornato a pranzo quindi con questi passaggi vi troverete bene per avere il pane fresco a pranzo altrimenti se iniziate la mattina potete infornare la sera ok questo è l'ultimo passaggio di pieghe che ne ho fatte soltanto due perché tanto l'ho visto che è bello lievitato tra un passaggio e l'altro aspettiamo all'incirca 30 minuti all'incirca quando vedete che si accascia si adagia è pronto e potete procedere allora adesso io farò un filone vi chiederete come mai faccio sempre i filoni questo dipende dai gusti a noi piace il pane non tanto mollicoso con una bella crosta quindi ci piacciono i filoni però voi potete fare con la stessa ricetta naturalmente anche una pagnotta qui ci verrà un bel filone bello grande allora allargo per benino e procedo a formare questo filone io di solito procedo così ci sono anche altri metodi però mi trovo bene con questo mi vengono bene altre volte ho usato un altro metodo a portafoglio però il filone ci vuole un pochino più piccolo perché poi dipende dai cessini che avete per farlo lievitare io qui siccome questo è bello lunghetto questo filone non ho il cessino così lungo e quindi procedo in un altro modo che adesso vedremo lo chiudo bene stringo bene la chiusura ed ora lo metterò avvolto in un telo ci metto un po' di semola questo è il telo del cestino che però non è molto lungo il cestino questo filone è un pochino più lungo quindi uso soltanto il telo per ce lo metto dentro vedete ho messo tanta semola per non farlo attaccare e lo lascio dentro questa teglia lo chiudo così in modo che si sostiene e ci metto anche un altro telo così e lo metto a lievitare ancora due o tre ore e comunque prima di pranzo lo andrò a cuocere eccolo qua vedete si è gonfiato ho dicevo l'ho messo dentro il forno con la lucina accesa ogni tanto accendevo la lucina quindi è stato il caldo ed ora una volta acceso il forno naturalmente il forno a temperatura lo giro in qualche modo vediamo spero che non si spatascia si era un po' attaccato lo vedete è più lungo anche della pala che ho è un bel filone quindi adesso lo inforno subito perché il forno è a temperatura 250 gradi e la teglia è calda e ce lo faccio scivolare sopra ci faccio prima un taglio ma appena appena perché è molto morbido e poi lo farò dopo 5 minuti ho infornato vado a ritoccare il taglio eccolo qua non ho potuto farvi vedere come ho tagliato poi adesso sta anche al rovescio adesso quando si è gonfiato di più lo giro così eccolo qua vedete beh diciamo che potevo farlo anche un po' meglio questo taglio però è un po' ondulato però direi che è venuto molto bene lo sento molto molto leggero vi metto i tempi in descrizione della cottura lo faccio raffreddare un pochino prima di tagliarlo lo metto in piedi per farlo asciugare un pochino e adesso tagliamo è ancora leggermente tiepido bello croccante proprio come piace a noi e beh eccolo qua beh bello qualche buco un po' troppo grande qualche buco di troppo ma è bellissimo io direi che è veramente veramente bello ok sì sono soddisfatta pensate che questo pane è stato fatto a mano quindi senza incordatura con l'impastatrice planetaria niente di che è tutto fatto a mano vedete che dire è buonissimo bene amici vi ringrazio della visione vi invito a replicare la ricetta un saluto a tutti e ci vediamo presto ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti